GF VIP 7, Oriana e Antonino si chiudono bagno, la regia li rimprovera, video. Al termine della diciassettesima puntata del GF VIP 7, in onda lunedì 14 novembre su canale 5. Oriana Marzoli e Antonino Spinalvese sono stati rimproverate dalla regia. Ma cosa è successo? La concorrente venezuelana ha preso per mano il 27enne Ligure e si è diretta in bagno. A quel punto la regia è intervenuta, così come Luca Salatino che si trovava già in bagno. In puntata, Alfonso Signorini ha parlato del presunto triangolo amoroso fra Antonino Spinalvese, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Finita la diretta, Oriana ha preso per mano Antonino e lo ha portato in bagno dove c'era Luca Salatino. La concorrente venezuelana stava chiudendo la porta, ma la regia è intervenuta, ma che state facendo anche Salatino ha cercato di placare la situazione, o ma che state a fa? Boni. Boni. Antonino imbarazzato ha replicato, e le spagnole sono così. Virgolette. Incurante del rimprovero degli autori, Oriana è rimasta in bagno come se volesse iniziare un discorso con il coinquilino, ma secondo te? Virgolette. Da regolamento i concorrenti del grande fratello non devono assolutamente entrare in bagno insieme ma uno alla volta. Per questo motivo la regia è intervenuta immediatamente. La scena di Oriana Marzoli che ha trascinato Antonino Spinalbese in bagno, non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra. Su Twitter, un utente ha ironizzato sulle presunte intenzioni dei due concorrenti. Un altro utente ha criticato Spinalbese, Antonino sembra un gigolò. Un altro telespettatore ha ammesso di essere deluso dall'atteggiamento del 27enne Ligure. Secondo un utente, Antonino dovrebbe capire che sta facendo una pessima figura con i suoi teatrini. Infine, una telespettatrice ha chiusato, la non curanza del prossimo olio sotela. Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sembra esserci una forte attrazione. Durante la diciassettesima puntata, il conduttore ha cercato di capire se Oriana è più attratta da Antonino o Daniele. La diretta è interessata ha deciso di rispondere, ma ha preferito rimanere sul vago. Signorine ha chiesto esplicitamente ai tre dipponi di non formare un nuovo triangolo amoroso poiché già lo scorso anno si è parlato di Soleil Sorge, Alex Belli ed Elia Duran. Nei giorni scorsi, Spinalbese ha dato un bacio a stampo ad Oriana per augurarle la buonanotte. A sua volta anche la concorrente venezuelana si è sentita di dare un altro bacio al coinquilino. Ma non è tutto, perché nel post puntata di ieri la stessa Marzoli ha chiesto ad Antonino di dormire insieme. Il 27enne però ha spiegato che a causa del mal di gola, la produzione gli ha consigliato di dormire lontano dai suoi compagni d'avventura perché preoccupata possa avere sintomi riconducibili al Covid. Grazie a tutti.